La differenza passa tra una buonissima, una buonissima Sant'Onore con tutti i canditi sopra, la panna e il numero 10 della Roma. Non un numero 10 civico della squadra della capitale. La differenza passa tra una Sant'Onore tutta bella, buona, con i bignè, e il numero 10 della Roma. Nessuna differenza, tutti loro sono totti.